Salve a tutti e ben ritrovati per questo nuovo video è appena iniziato il campionato del mondo Rapid in cui partecipano i giocatori migliori al mondo tra cui Carlsen, Nepo e anche Hans Mock Nieman quindi potrebbe esserci la possibilità che Nieman e Carlsen giochino contro in questa prima giornata Carlsen ha dimostrato di essere informissima e ovviamente vuole vincere un'altra volta il campionato del mondo Rapid anche perché secondo Carlsen, secondo la sua idea, gli scacchi devono essere giocati con meno tempo bisogna abbassare il tempo a disposizione dei giocatori in modo da renderli spettacolari e Carlsen oggi crea la partita perfetta prima di iniziare ricordo a tutti di mettere mi piace, di iscrivervi al canale grazie a tutti coloro che si stanno iscrivendo e iniziamo ok eccoci qui, siamo al quinto turno del campionato del mondo Rapid e si affrontano Timur Garayev, grande maestro americano che sta a 4 punti su 4 e Magnus Carlsen, numero 1 al mondo che sta a 3 punti e mezzo quindi Garayev è l'unico ad avere 4 punti vediamo questa partita Carlsen apre con pedone e4 Garayev risponde con e5 segue cavallo f3, cavallo c6, alfiere b5 partita spagnola, l'apertura più giocata dai grandi maestri Garayev attacca subito l'alfiere in b5 segue alfiere a4, pedone d6 pedone d6 è una mossa teorica, non la mossa più giocata però ci può stare, vediamo cosa ha in mente Garayev Carlsen arrocca mettere al sicuro Garayev sviluppa l'alfiere in d7 e dopo pedone c3, Carlsen intende spingere in d4 per occupare il centro questa è l'idea dell'apertura spagnola Garayev gioca pedone g5 ecco questa è una mossa molto pericolosa che non va sottovalutata l'idea del nero è di giocare pedone h6 o comunque anche h5 g4 e di attaccare sul lato di re è un sistema che viene utilizzato ormai molto spesso però Carlsen e Neiman solitamente lo sanno affrontare molto bene Carlsen gioca al centro, pedone d4 Garayev continua con g4, attacca il cavallo Carlsen ritira il cavallo in e1 gioca la mossa migliore e Garayev gioca appunto h5 ora secondo il motore qui il bianco sta un po' meglio però effettivamente dal punto di vista umano bisogna stare attenti io ho giocato tante di queste partite dove mi attaccano sul lato di re in questo modo e vi assicuro che se non sapete cosa dovete fare è molto difficile ma si presume che il numero uno al mondo sappia cosa fare Carlsen sviluppa l'alfiere in e3 ad esempio questa mossa viene segnata come imprecisione da Cesbondocon ma è un'ottima mossa sviluppa un pezzo difende d4 Garayev continua con l'alfiere h6 gioca la mossa migliore offre il cambio degli alfieri campo scuro Carlsen continua con donna e2 difende l'alfiere e arriva donna f6 vedete l'idea del nero è di attaccare sul lato di re quindi il nero sta portando i pezzi sul lato di re Carlsen cattura in e5 e dopo pedone per e5 gioca cavallo d3 con questa mossa aumenta la pressione sul pedone in e5 e vuole giocare cavallo c5 per attaccare l'alfiere per attaccare il pedone in b7 ottima idea Garayev allora continua con cavallo e7 ignora un pochino questo piano continua lo sviluppo e Carlsen gioca cavallo d2 anche lui continua lo sviluppo collega le torri e ora è pronto a portarle in gioco Garayev continua con cavallo in g6 con questa mossa aumenta l'attacco sul lato di re segue cavallo c5 questa è troppo buona per non essere giocata questa mossa Carlsen attacca l'alfiere attacca il pedone in b7 e Garayev ritira l'alfiere in c8 vedete addirittura il nero ritarda l'arrocco lungo vuole cercare di combinare qualcosa sul lato di re vediamo se ci riesce Carlsen gioca torre d1 la mossa migliore torre su colonna aperta Garayev salta con il cavallo in f4 ecco ora inizia a dare fastidio perché la donna è attaccata Carlsen cattura e dopo alfiere per f4 Carlsen gioca cavallo d3 ecco come gioca un campione anche se il cavallo in c5 era un pezzo molto forte Carlsen non esita a portarlo in d3 per attaccare l'alfiere segue arrocco il nero mette re al sicuro e Carlsen gioca pedone g3 attacca di nuovo l'alfiere ora dopo alfiere h6 Carlsen gioca una mossa molto logica ovvero pedone f4 intanto aumenta il controllo al centro e in più dopo Anpassan che viene giocata in partita Carlsen può catturare di cavallo aprendo così la colonna alla torre attaccando la donna certo Anpassan è stata una mossa molto molto strana molto dubbia perché la torre ora sta attaccando direttamente la donna e quindi ora è Carlsen che può impostare un attacco il nero non ci è riuscito segue alfiere g4 Garayev attacca il cavallo attacca la donna a raggi x Carlsen prosegue con donna g2 è pronto a giocare mosse come cavallo h4 anche se deve stare attento alla torre in d1 però quello è il suo piano vuole attaccare ovviamente la donna in f6 quindi Garayev sposta la donna donna e6 e Carlsen gioca semplicemente alfiere b3 continua ad attaccare la donna mette pressione in f7 mette pressione al re dopo donna e7 Carlsen gioca h3 la mossa migliore guardate come gioca bene senza commettere errori segue alfiere e6 cavallo h4 anche questa è una mossa spettacolare in caso di alfiere per b3 ad esempio pedone per b3 Carlsen può giocare cavallo f5 attaccando la donna e l'alfiere quindi qui l'attacco del bianco è pericolosissimo di fatto Carlsen è già in vantaggio in questa partita quindi segue alfiere e3 scacco re h2 e donna g5 Garayev prova a coordinarsi Carlsen continua con cavallo f5 mossa fortissima attacca l'alfiere dopo alfiere b6 gioca h4 attacca la donna quindi la donna deve essere spostata Garayev la porta in f6 e Carlsen gioca donna e2 questa è una mossa semplice Carlsen attacca semplicemente il pedone in h5 vuole entrare Garayev porta la donna in h8 perché qui era preoccupatissimo dato che la donna era sotto attacco difende così anche il pedone in h5 Carlsen spinge in g4 ma cosa vuole fare? ora vediamo un'idea sicuramente è quella di aprire il gioco e di attaccare i re oppure ha anche altro in mente dopo donna h7 Carlsen gioca la mossa migliore gioca pedone in g5 non è possibile in pratica Carlsen ha ancora 11 minuti e 56 secondi ha utilizzato solo 3 minuti per giocare questa partita mentre l'avversario ha solo 46 secondi cioè non lo so l'avversario potrà anche essere arrivato in ritardo eccetera ma qui ragazzi cioè voglio dire lo sta proprio schiacciando ma di brutto pedone g5 la mossa migliore serve a giocare cavallo h6 per aumentare la pressione su f7 e intanto dopo cavallo h6 darebbe scacco come fai a fermare questo piano? è impossibile garaev continua con re h8 e arriva appunto cavallo h6 ora ci sono ben 3 pezzi che stanno attaccando in f7 e in più c'è il pedone in h5 in presa Carlsen si è trasformato in alfa 0 segue alfiere per alfiere pedone per alfiere e garaev gioca f6 con f6 attacca il pedone in caso di pedone persegue donna per il bianco perderebbe un pezzo però Carlsen giustamente cattura in h5 con la donna e ora io direi che questa posizione è da abbandono cioè un grande maestro dovrebbe capirlo che qui il bianco sta troppo meglio in questa partita garaev continua ancora per qualche mossa gioca alfiere in e3 con questa mossa minaccia scacco in f4 e attacca in g5 Carlsen attacca semplicemente questo alfiere ovvero torre 1 portando anche un altro pezzo in gioco e dopo pedone per g5 una mossa un po' strana un po' disperata forse perché garaev qui aveva poco tempo insomma ma non capisco appunto perché non abbia abbandonato Carlsen cattura la torre in f8 quindi torre per f8 torre per f8 torre per e3 pezzo in presa ora voi potreste dire vabbè ma il nero in questa partita ha giocato abbastanza male almeno così ci è sembrato però io vi rispondo beh ragazzi il nero sta giocando il campionato del mondo rapid e stava a 4 punti su 4 aveva battuto tutti quelli che aveva incontrato poi è arrivato un certo Magnus Carlsen e lo ha fermato quindi capite qui si tratta proprio di differenza di livello di gioco non è che garaev è scarso ma è Carlsen che è troppo forte Carlsen è veramente lanciato l'ho visto anche in video molto concentrato sa utilizzare molto bene il tempo lo hanno detto anche Nakamura e altri che Carlsen sa utilizzare meglio il tempo rispetto a loro mentre ho notizie un pochino tristi per coloro che ti fanno Neiman perché Neiman sta andando abbastanza male ragazzi si Neiman sta andando abbastanza male non è tra le prime scacchiere ha perso partite contro giocatori meno quotati di lui addirittura contro i 2300 e qualcosa non lo so sarà sicuramente uno stato mentale vedremo un po' cosa succederà domani grazie a tutti per la visione di questo video vi ricordo di mettere mi piace di iscrivervi al canale ciao e alla prossima ciao